500 metri a sud da qui, andiamo! Muoversi, muoversi! Imboscata! Imboscata! Fuoco di soppressione su quell'edificio! Dobbiamo avanzare! Continuate ad avanzare! Attiva subito il visore notturno! Allora... Jackson, tu e Roycevic, andate di sotto! Noi copriremo questa entrata, andate! Attenti a chi sparate, siamo al secondo piano! Ricevuto, ridirezioniamo il fuoco. Con la loro mitragliatrice ai chianti! La loro mitragliatrice, Jackson! Libero! La loro mitragliatrice, Jackson! Libero! Libero! Attenzione, tutte le nemiche in arrivo verso il cargo, raggiungetelo subito. Ricevuto, ci stiamo lavorando, chiudo! Soldato, soldati nemici! Piano inferiore! Soldato! Libero! Garzagli in campo aperto! Signore, è pieno di nemici là fuori! Sta zitto e tienili fermi! Ricevuto! Fuoco di soppressione! Demici! Al secondo piano! Fuori! Fuori! Contatto visivo sul cavalcavia! Ruavi da ricognizione ha individuato cari nemici! West, sali sul tetto e falli saltare col javelin! Sì, signore! West è a terra! West è a terra! Jackson, prendi il javelin! Jackson, prendi il javelin e fai saltare coi carri armati! Finici un campo aperto! Passo dove? Mira i veicoli dall'altra parte del ponta! Presto! Sto schiodato! Jackson, prendi il javelin! Jackson, prendi il javelin e fai saltare coi carri armati! Spira i veicoli dall'altra parte del ponta! Presto! Jackson, al secondo piano! Elimina coi carri armati! E' fatta, amico! Bravo, sei la nostra posizione a nord del cavalcavia! E' sotto fuoco pesante! Dove diamolo siete? Siamo quasi arrivati! Resistete! Il carro è dall'altra parte del cavalcavia! Allora, torniamo dalla squadra! Alpa 6, rapporto! Passo! Siamo ancora circondati, signore! Siamo rimasti in quattro! Ma il carro è ancora ok! Passo! Bravo, sei qui Warpik! Il canone è fuori uso, ma abbiamo ancora la mitragliatrice! Hanno gli esplosivi! Non fateli avvicinare al carro! Non ho vittinare al campo! Non fissi! Non fissi! Non fissi! E' fateli avvicinare! Non fissi! Non fissi! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, 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 sì.